Si dovrebbe cambiare qualcosa, speriamo, di bene sempre, perché stiamo andando proprio qua alla rovina. Speriamo che si cambia, perché insomma non si può andare avanti così per i ragazzi, per tutto, per i nostri figli. Secondo me non molto, anche se sicuramente qualcosa succederà, abbiamo il fenomeno grillo, abbiamo tante situazioni emergenti, per cui qualche cosa penso cambierà, ma ciò in cui io non credo è nel cuore dell'uomo. Se vogliamo cambiare qualcosa almeno il voto lo dobbiamo dare, altrimenti non riusciremo mai a cambiare niente, questa è la mia idea, poi che cosa cambierà si vedrà. Speriamo che cambi qualcosa, noi ce la mettiamo tutto, soprattutto per i giovani. Speriamo che le cose cambiano. Non penso che cambierà molto domani dal voto, anche perché l'Europa comunque sta andando bene.